Ragazzi sono Clice e ben ritrovati in questo nuovissimo video di distruzione di Mars Ciao Raga oggi faremo tre test con questo telefono e dovremmo riuscire a distruggerlo anche se E' un po' difficile fare più di così a parte dividolo a metà Esatto Raga il primo test sarà il test sull'angolo quindi dovremmo sbatterlo forte 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 sopra l'angolo Il tiro è di farlo di retro perché tanto il vetro non si nota né differenza Vabbè chi ce ne frega e poi il lancio e alla fine l'acqua Test acqua Possiamo notare che è acqua vera Ok raga il primo test è quello dell'angolo dovremmo riuscire a distruggirlo ancora di più E direi di fare due botte dietro Sì Uno E mi ammettiamo tra i denti Due tre Non bloccate No no si nota Guarda si è piegato in due lo schermo In effetti Guarda Per chi non è autorizzato al video si ne va di Eeeh A me Eeeh Cavolo quella porta lì è una arma di distruzione di massa manco i tre Ci vediamo al secondo test Ma perché sto muore Ok raga Test lancio Omega galattico Oh è integro Ma perché non sa lanciare Fa recchi però Non sa lanciare Vediamo La differenza è minima Ok diamo lo c'è Un reduttore in punto Terzo E ultimo Test Anzi io direi di fare un peggio Un bonus Che ne dici eh Un bonus Un bonus Vai 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 Altri due bonus Allora possiamo notare che Ci sono già l'elettricità nell'aria Lui sta Questo qua non serviva Ma che senso ha dovuto fare quello dell'acqua Non fa danno Test bonus Ok raga Test bonus Danno da tartaruga ninja Wow E questo lo morde Mortilo 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 dai su Che te sei una bestia Avete visto Galattic bonus Secondo bonus Ok raga Ultimo Test bonus Con questo Un po' il più pesante Ma io direi che È il tartaruga Che sono state distrutte Così Non lo fa È mancato Direi che questo qua Basta e avanza No Cristoforo Si è buccato Calmatelo Raga Questi sono i risultati Dei test E Bucchetto Dai Mi sei ficcato qualcosa Raga Spero che questo video Vi sia piaciuto Vi ricordo Di lasciare un like Iscrivetevi al canale Lasciare un commento E ci vediamo Ad un prossimo video Bella raga Salutiamo e ringraziamo Si saluta e si ringrazia L'educazione E ci vediamo Ad un prossimo video Bella raga Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti